L'ultimo episodio in cui ho parlato di Polo G ha avuto non poche polemiche anche qualcuno favorevole però insomma non è piaciuto il fatto che io l'abbia un po' attaccato dopo che invece l'avevo sempre supportato ed ero sempre stato diciamo favorevole sia alla sua scuola di pensiero e sia al suo modo di portare e intendere questa musica. Cioè nel senso io ho sempre stima rispetto e ammirazione verso chi nel 2024 comunque fa rap al di là che tra l'altro è un genere che io neanche ascolto più di tanto magari si ascolto l'urban però è difficile che ascolto il rap quello vero crudo però stimo chi lo fa addirittura io da sempre rapper fin da ragazzino ad oggi i miei brani sono più indie pop su quella wave lì giusto per testimoniare quanto comunque sono diverse le mie brani. Influenze però io non andavo a criticare diciamo il cambio stilistico lo vedevo un po' arretrato rispetto al passato in quanto io mi sembrava che fosse invece avanti ma parlo per attitudine e tematiche per appunto il solito concetto del cuore che immetti sulla strumentale che sono discorsi che faccio mille volte ma sono la base della musica la base dell'arte. Quindi io quando parlo di musica e di arte ovviamente finisce a fare i stessi discorsi e come se parliamo di matematica voi non vuoi c'è un'addizione c'è una sottrazione una moltiplicazione voi cambiano le cose attorno. In questo brano qua per me va a fare un recupero perché anche se io l'inglese non ne capisco un cazzo posso giusto intuire quindi vado a sentimento però vedo che lui ha preso sì in questo brano una forma magari più contemporanea come l'altro. Ovviamente nell'altro mi sembrava la classica roba buttata in cacciara lì per far casino per fare l'esercizio di stile che però non è non è underground rap come siamo abituati non è innovativo sembra che stai rincorrendo qualcuno e quindi di conseguenza mi sei uno dei tanti ma tu non sei uno dei tanti sei Polo G qui invece anche sempre a livello stilistico c'è un discorso di volersi contemporaneizzare quando tu vieni comunque dall'underground vecchia scuola scheggiadenti sulla traccia. È normale che fai un po' fatica quando vai a portare la new wave no perché per te è una cosa nuova mentre per gli altri è sdoganata quindi comunque io apprezzo questo suo nuovo linguaggio e secondo me lo fa benissimo cioè proprio nel senso però qui mi piace più di prima perché perché percepisco il sentimento percepisco l'anima di Polo G che poi è ciò che mi è piaciuto perché parliamoci chiaro a rappare oggi sono bravi tutti in un modo o nell'altro chi più chi meno chiaro non tutti sono Kendrick e Mark adesso deve anche difendersi deve dimostrare commenteremo lo svolgimento del dissing però Polo G insomma il livello per me era quello adesso con questa traccia per me ha ripreso il mio rispetto ha ripreso la mia stima perché si è voluto rappresentare nuovamente come i vecchi tempi e non parlo appunto di stile ma parlo a livello di come vuole appunto comunicare il suo messaggio col cuore è tutta una questione di cuore la musica per me quando devo fare la critica poi che metti in sottofondo anche il pezzo vecchio di Polo G lo fai pompare dallo stereo pompa ti gasi questa è un'altra storia segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente prime ascoltalo senza pubblicità su amazon music